Buongiorno da Temu Tifosi di Rosanero, è il giorno del terzo test precampionato per il Palermo che questo pomeriggio sfiderà l'Apoel Life a formazione della prima divisione israeliana allenata da Talbanin ex giocatore del Brescia. Questa mattina il mister Iachini ha provato le ultime soluzioni tattiche in vista dell'incontro svolgendo anche una parte dell'allenamento con prove di calci piazzati naturalmente utili per iniziare ad assimilare gli schemi in vista non solo di questi test precampionato ma in vista anche della stagione. Noi ovviamente vi proporemo la radio cronaca di Palermo Apoel Life a partire dalle 16.55 su palermocalcio.it potrete ascoltare la diretta del match anche attraverso tablet e smartphone. Grazie